Benvenuti in questo video tutorial che spiega come prenotare hotel o villaggi turistici sul nostro sito www.dedalotour.com In questo caso ci troviamo nella pagina dei villaggi turistici Sicilia Come vedete c'è l'elenco di tutte le strutture che sono state inserite Qui potete tranquillamente sceglierne una Cliccando su dettagli e come vedete si aprirà in questo caso la pagina del Memphi Beach Resort che è una struttura che si trova a Memphi zona Bertolino è una struttura che accetta gli animali domestici, che adatta alla famiglia, mare Sicilia eccetera eccetera All'interno della struttura troveremo le fotografie la fotogallery dove basterà cliccare per andare a guardare le fotografie che ci interessano e poi la descrizione, la possibilità di farvi un preventivo Una cosa importante è che ovviamente all'inizio non da nessuna disponibilità perché bisogna fare una ricerca e qui volevo farvi attenzionare che molti villaggi turistici permettono soggiorni solamente settimanali da un determinato giorno a un altro giorno in questo caso i soggiorni sono da domenica a domenica e questo potete vederlo nella sezione info utile che si trova sempre in basso nella struttura lo trovate sempre in basso vedete soggiorni settimanali domenica a domenica allora potete tranquillamente selezionare le date che vi interessano in questo caso facciamo dal 5 al 12 di agosto essendo domenica a domenica 2 adulti più, facciamo un esempio, un bambino di 6 anni e andiamo sul tasto cerca a questo punto usciranno tutti i risultati disponibili per questa struttura in questo caso qui c'è una tariffa non rimborsabile che prevede pensione completa o addirittura una soluzione in residence che prevede solamente il soggiorno una volta selezionata la camera, l'offerta che vi interessa potete decidere di prenotare poi verrà chiesto se si vogliono prenotare anche dei servizi extra a questo punto noi clicchiamo, possiamo anche non farlo andando avanti sul tasto prenota la camera andrà all'interno del nostro carrello voi potrete continuare lo shopping oppure decidere di andare a controllare ciò che avete deciso di prenotare vedete qui c'è tutto il dettaglio camera classic, cosa include, gli orari, la tipologia di ristorazione i supplementi obbligatori da pagare in hotel e qui in questa parte potrete inserire i dati e decidere di pagare attraverso carta di credito Paypal oppure potete decidere di utilizzare il nostro motore di ricerca interno del sito facciamo finta che volete in questo caso un albergo che si trova, un villaggio volete cercare dei villaggi turistici che si trovano in Calabria fate la vostra ricerca da sabato 4 agosto all'11 di agosto due adulti più uno o due bambini insomma quello che volete un bambino di 7 anni andate a fare la ricerca ricordatevi che l'età dei bambini va inserita l'età compiuta al momento del soggiorno e qui c'è la lista di quello che state cercando cioè villaggi turistici in Sicilia dal 4 all'11 di agosto e qui esce la risposta con la possibilità di filtrare con il prezzo più basso con il punteggio degli ospiti l'offerta migliore eccoci qua poi ovviamente cliccando su prenota andrete all'interno della scheda hotel e direttamente avrete la possibilità di vedere il dettaglio camera manzardata eccetera eccetera cliccando come vi dicevo poco fa sulla foto avrete il dettaglio proprio di quello che include la camera che volete prenotare vi ringrazio dell'attenzione buona navigazione all'interno del nostro sito grazie a tutti